ciao ragazzi di questo video io sono nessuno più che altro sono con lui che quitta sempre da youtube in qualsiasi momento infatti i miei quit in molti casi sono sempre molto inaspettati gli nomi nemici perché sennò mi rompono i coglioni niente un video sicuramente poi non ve l'aspettavate perché ormai l'era di youtube mia è finita quella dell'era del king è finita sono su black ops 2 perché boh non so dove registrarlo black ops 3 mi fa bestemmiare come il cristo invece black ops 2 un po di più però ci accontentiamo infatti ormai la playstation la tocco veramente poco e niente beh è passato un bel po dal quit più che altro avevo aperto l'altro canale però tipo non lo sto usando e quindi vaffanella zio la vita e di conseguenza funziona così madonna raga per farvi capire per quanto per quanto non ci gioco non c'è neanche la mira su cod e tranne questo col ballista che giustamente tu apri black ops 2 prima lobby e ti trovi uno col ballista camperato che mi sembra anche giusta come cosa perché funziona così come c'è questione di principi tu giochi a black ops 2 ci sono i cecchini mi sembra pure giusto chi di poi gioca a black ops 2 e non trova mai cecchini ditemelo perché sono veramente curioso di saperlo anche se inserì non me ne prendo un cazzo però lo voglio sapere lo stesso dai so che questo video non se lo inculerà a nessuno perché parte questo tipo moso spento come la candela il giorno del compleanno e stavo dicendo so che questo video non se lo inculerà a nessuno perché ormai mi conoscete come zetale però sai come sapete com'è oggi praticamente non c'è un cazzo da fare ho studiato sul presto quindi praticamente c'ho tutto sto tempo libero non so che minchia fare detto vabbè ma registro un video a capocchio che non si inculerà a nessuno che si farà penso una cinquantina di dislike e gesù cristo era bello capito non so che c'è la tripla forse invece no c'è la tripla in killcam tripla morto triplo set una volta sapevo giocare è questione che ormai non è che c'ho tutta sto voglia cioè non è che non c'è un voglia di giocare però ormai non gioco più alla play come prima ogni tanto se gioco a rimbo ma è veramente rara come cosa c'è penso più ascoltarmi musica a farmi cazzi miei a mettere le stories sul mio profilo privato che ovviamente non vi dirò mai come si chiama perché ai nabbi non si vive queste cose è un video veramente random infatti tipo sto parlando a capocchio ma è giusto per dirvi che non sono morto che sono vivo che la malaria non mi ha colpito ancora quindi state tranquilli che per ora non muoio rimarrò sempre qui nei vostri cuori o forse no però questo non lo saprò mai spero di sì perché sennò prima delle sette ammette che la vita è una cosa bellissima sto dicendo veramente cose senza senso né in cielo né in terra oppure io in terra perché io in terra è un signor album anche se non c'entra un cazzo quello che sto dicendo madonna mia che smirata diciamo non è proprio mira vabbè dai una semtex giusto per dire che ho lanciato una granata ma qua tipo lo spawn è andato a fanculo non c'è nessuno cosa che cazzo what the fuck cos'era quella cosa che volava vorrei capire ci ho visto una cosa e volava porco il signore oh ma c'è uno la forza io tipo l'ho visto pure quello 12 9 dai l'abbidi disturbo online nel 2017 ancora l'abbidi disturbo usò ma proprio ma stoti si chiamavano vedi questo vedi la mia classe abbiamo più nabbi capito siccome già non faccio abbastanza schifo ma prendo stare da se continui a fare schifo capito cioè perché gesù cristo non lo so erano poi è una cosa certa questi oddio viva la mira oppure viva la figa io direi più la seconda comunque fossimo quello con lo scudo 2017 usano gli scudi perché hanno giocato al rainbow come così non va bene allaghi giù un po' la faccia doppia bella lì quanto cazzo forte l'hai messa mc ragazzi non solo io che faccio schifo alla merda a giocare perché ormai non c'è più le maglie ma questo cosa fa della sua vita cosa fa boh va capisci ma paolo cannone no perché erano grande gd square bravissimo oh no rega li sto devastando questi cioè non è che li sto devastando è che sono nabbi loro capito uuu ci facevo la quad feed anche se perdevamo lo stesso vabbè quasi quasi faccio un'altra partita così vi faccio vedere quanto faccio schifo ehi sti cazzi seconda partita incredibile il king su code black ops 2 a fare schifo come sempre sempre lui uavvi ricotta lo stealth e visa torbitale praticamente faccio il gameplay all'amidino praticamente nooo lei non mi scoppiasse la macchina di fianco alla chi pippo pippo in zio non so farà cagare sta merda e poi giustamente se la merda per forza le farà cagare bella frate vediamo un bel bello sciacallo da terra quelli proprio random che roba che gesù cristo più o meno quando gesù cristo dite il pane agli apostoli capito a me danno invece gli sciacalli come come gesù cristo è la stessa cosa rega uuu frate no no vi state impegnando troppo no vabbè dovete giocare a cazzo di cristo capito come gioco io senza un un filo logico capito vabbè i miei colpi praticamente è come quando vai che ne so quando vai alle bancarelle della pista patronale e compri le pistole che che sparano a bolle è la stessa cosa cioè fottutamente la stessa cosa ah la buon ora 26 colpi per uccidere un nemico mi sento realizzato oh ma c'è uno di fianco cazzo aveva visto quando nel 2017 ti dicono che col quadrato puoi togliere l'infiltrazione ma tu non sei studiato e alla spari lo stesso perchè non ti fidi di quello che ti dice il gioco perchè oddio mio se lo uccidevo non lo so optic famace mi diceva che potevo fare un propino per i per i fades così a caso so che in questo video praticamente la mia faccia è come se sono serio e non faccio ridere però non lo so perchè sto così cioè non è che sto male cioè sto bene però non è che posso ridere come un coglione nel video cioè neanche i miei contro te no anzi i miei contro te lo fanno proprio per natura che ridono come dei coglioni ogni cosa che dicono io invece se devo dire una cosa seria la dico cioè un po' come le battute le battute sono serie poi si fanno ridere tipo non lo so questo col cecchino ci muore la stessa identica sensazione vabbè ma la c'è no dico io vabbè uno però deve morire non è che dovete essere tutti vivi manco se no poi qua non ci capiamo non ci intempiamo tutto cazzo è forte quest'arma regà tipo va schipa la merda su muoviti ma adesso infiltrazioni non rozzi coglioni cioè boh manco quelli che giocano per fare clip usano infiltrazioni not to cry in the audio to pass for gesù cristo di ar morto da dietro tipo l'audio si sentirà o altissimo o una merda secondo me lo c'è due quindi paolo cannone tori e domani poi quando si svegli più fresco del solito va ma qua c'è qualcuno no no c'è paolo non grabba troppo ma do questo muo' entra nei feeds ho fatto già il proprio questo qua tipo non c'è una vita sociale penso tutto il tempo a giocare col check su bio 2 vatti una vita frate perché è bello vorrei capire come sono morto ma da tipo un colpo cioè ha detto così strunato da bestemmiare da solo i miei colpi tipo scomparsi cioè tipo il cimitero quello con con l'esatto silenziale madonna che gente porco dio madonna perché tua madre ti hai fatto nascere quel giorno dico io ma io dico no ma con i preservativi io no cioè i preservativi sono in giro da tanti anni perché non ne hai mai fatto uso cioè sono una cosa veramente che guarda questo questo c'ha le hack per forza per forza per forza e abbiamo perso c'è papo cipsilon che ha appena quittato gli volevo mandare un messaggio quanto ne dispiaglia almeno tutti bannano a vita vale guarda questo guarda counter strike proprio bucì ha detto una puttanata quanto oggi e domani però Gesù Cristo non diceva tanto di cazzare i suoi tempi stai tranquilli niente il video che non so più come si registra finisce qui uscirà un video di 20 minuti perché non farò due tagli in croce lascerò le bestemmie non metterò la intro oppure la metterò di un altro canale a caso giusto per fare il Cristo morto ciao porco dio